Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale. Oggi facciamo il rotolo di crepe con la panna e ananas. Please il vostro like. Mischiare uovo latte e farina 00 setacciate aggiungendo l'olio. Poi riscaldare la padella. La padella deve essere caldo. Aggiungere la pastella per crepe e così via. Montare la panna con dello zucchero. Stendere le crepe come sto facendo io. Spalmare la panna montata. Colpaggere i pezzettini di ananas e arrotolarlo. Fallo riposare nel frigo per due ore. Poi potete cominciare a godere il dolce. Hai imparato la ricetta? Se vi piace questo video ricordatevi assolutamente di seguirci. Like, share!